I fenici. I fenici, popolo originario della terra di Canaan, si stanziarono nel territorio che oggi corrisponde all'attuale Libano, intorno al 3000 a.C., quindi alla fine del Neolitico, e la loro civiltà si sviluppò fino alla seconda metà dell'VIII secolo a.C. Le caratteristiche del territorio spiegano la vocazione marittima e commerciale di questo popolo. Il territorio del Libano è montuoso e ricco di piante di cedro, mentre la pianura è limitata alla fascia costiera. Dunque, l'impossibilità di avere un'agricoltura fertile e produttiva spinse i fenici a sviluppare la vocazione marittima e commerciale. Essi infatti divennero nel tempo navigatori esperti e abilissimi mercanti. Perché? Che cosa consente ai fenici di diventare navigatori più esperti, per esempio degli egizi o degli altri popoli che gravitavano nel bacino del Mediterraneo. Innanzitutto, la presenza di piante di cedro consente ai fenici di costruire navi molto più robuste, il cui scafo veniva ulteriormente rafforzato da una parte, da una copertura in bitume che rendeva le navi più solide, adatte anche a forme di navigazione sconosciute agli altri popoli, come la navigazione di altura, la navigazione di altura, cioè lontano dalla costa, e la navigazione notturna. La navigazione notturna era resa possibile anche dalla conoscenza astronomica di questo popolo. I fenici divennero a tal punto navigatori esperti che addirittura, secondo la testimonianza dello storico greco erodoto vissuto nel quinto secolo, essi riuscirono in un'impresa che nessun popolo aveva tentato prima d'ora, e cioè la circonnavigazione dell'Africa. Non sono soltanto navigatori esperti fenici, ma alla vocazione marittima si aggiunge molto naturalmente anche quella commerciale. Diventano abilissimi mercanti e importano prodotti che mancano nel loro territorio, vale a dire prodotti agricoli, perché la pianura, come abbiamo detto in precedenza, è limitata alla fascia costiera, ma anche i metalli, che sono la base di un florido e raffinato, artigianato, e infine gli schiavi, perché a differenza dei popoli che abbiamo studiato dell'area mesopotamica, i fenici non sono un popolo bellicoso come gli assiri, non danno vita a un impero e dunque non hanno quella materia prima fondamentale, per esempio per la costruzione delle navi o di altre operazioni che è appunto costituita dagli schiavi. Esportano il legno di cedro di cui abbonda il territorio e poi due prodotti che sono tipici della civiltà fenicia. Il vetro si deve ai fenici, infatti lo sviluppo della tecnica del vetro soffiato e la porpora. La porpora è un colorante ottenuto dalla lavorazione di un particolare mollusco di colore rosso ed è un colorante molto pregiato per cui i fenici diventano famosi in tutta l'area del Mediterraneo. Fabbriche, chiamiamole così, per la lavorazione della porpora, per esempio, sono state ritrovate a Mozia, un'isoletta o anzi un isolotto a pochi chilometri dalla città di Trapani in Sicilia. Quindi in quanto navigatori esperti e soprattutto in quanto abilissimi mercanti, in un tempo relativamente breve i fenici riuscirono a ottenere il monopolio commerciale del bacino del mar Mediterraneo, soprattutto, e questo è interessante, del mar Mediterraneo occidentale. Un'altra ragione che spiega il successo, diciamo così, dei fenici nel Mediterraneo è che, a differenza di altri popoli che pure praticano il commercio, i fenici fondarono delle colonie. Che cos'è una colonia? Una colonia è propriamente un insediamento di un gruppo in un territorio esterno a quello originario per scopi commerciali oppure di conquista. Nel caso dei fenici domina il primo scopo, cioè lo scopo commerciale. Le colonie fenici, secondo alcuni studiosi, infatti, non furono se non porti e magazzini, non furono cioè il presupposto per lo sviluppo di una vera e propria città, come avviene nel caso invece della colonizzazione greca. In realtà un caso particolare smentisce questa ricostruzione, perché se è vero che le colonie fenice furono essenzialmente dei porti, degli approdi o dei magazzini, in realtà una colonia divenne una città molto importante, anche alla luce della storia di Roma, cioè Cartagine, sulle coste, sulla costa settentrionale dell'Africa, nell'attuale Tunisia. Un'altra ragione per cui, che spiega, diciamo così, il successo commerciale dei fenici, è l'invenzione di un sistema di scrittura funzionale alla gestione amministrativa dei commerci. Ora, nei sistemi di scrittura che abbiamo analizzato studiando le civiltà della mezzaluna fertile, dunque la scrittura egizia e la scrittura somera, abbiamo riscontrato alcune caratteristiche peculiarie, cioè per esempio la complessità dei simboli o dei segni e il fatto che la competenza in materia di scrittura era acquisita esclusivamente da un gruppo specifico di persone. Per diventare scrivi occorreva sottoporsi, occorreva frequentare una scuola e non era un mestiere, era un mestiere molto ambito perché prestigioso. Quindi la scrittura era una tecnica riservata, se vogliamo, una casta privilegiata. Ora, cosa cambia con i fenici? I segni vengono ridotti all'essenziale, sono 21 e ad ogni segno corrisponde un suono, quindi una scrittura fonetica basata su un sistema ridotto di segni. Quindi è un sistema ridotto, semplificato, il segno corrisponde al suono, in quanto appunto ridotto e semplificato è facilmente utilizzabile da chiunque e si presta anche ad essere modificato, dunque semplice, essenziale, flessibile perché può essere preso e modificato. Avviene infatti così nel caso dei greci che costruirono il loro alfabeto sulla base dell'alfabeto fenicio e così pure faranno gli etruschi che daranno vita al nostro alfabeto. Per quel che riguarda infine l'organizzazione politica del territorio, i fenici non diedero vita a uno stato unitario, ma a una serie di città-stato per lo più collocate sulla costa, Sidone per esempio, governate da un monarca, un re, coadiuvato da un'assemblea formata da ricchi mercanti. Perché a un certo punto della storia, cioè intorno alla seconda metà dell'ottavo secolo, la potenza fenicia si esaurisce? Le cause sono diverse. La prima è la debolezza politica del territorio dovuta alla frammentazione. I fenici non crearono uno stato unitario. Questo li rese molto deboli rispetto ai ai popoli confinanti che invece erano militarmente molto forti. Infatti nel corso dei secoli, dal 731 avanti Cristo fino alla conquista di Alessandro Magno nel 330 avanti Cristo, il Libano, cioè l'attuale territorio dei fenici, fu oggetto di una serie di conquiste. Prima da parte degli assiri, poi dei babilonesi, poi dei persiani e infine da parte di Alessandro Magno. Ma un'altra delle cause del declino della civiltà fenicia fu l'affacciarsi nel bacino del Mediterraneo di un'altra grande potenza commerciale, la Grecia. Proprio nella seconda metà dell'VIII secolo avanti Cristo, infatti, coloni greci iniziano a colonizzare i territori del Mediterraneo occidentale. Intorno a questo periodo infatti viene fondata la prima colonia greca su suolo nel mar Mediterraneo occidentale, precisamente a Pitecusa in Campania.